buongiorno a tutti sono riccardo di fbbike.it oggi giro offroad tranquillo perché non sa voglia però c'è una novità vi voglio presentare pasquale un amico che si è trasferito in toscana con la seconda casa a vivere e produce prodotti per gli sportivi quindi integratori e tanti altri prodotti che poi vi farà vedere lui questo video non è per non ricevo denaro per sponsorizzare il prodotto però dato che è un amico che viene sempre a giro insieme a noi e abbiamo scoperto questa cosa che sta facendo e vi voglio far vedere il suo prodotto anche perché lo troverete online da tutte le parti ma spiegato da chi lo produce secondo me è sempre qualcosa in più siamo come al solito vicino a cipressini ma ora si va a vedere il prodotto si farà anche una prova si mette nel nella borraccia solo di tonino du brasil ecco qua il nostro amico pasquale dottor pasquale visano che oggi è in giro con noi vedete qui c'è le nostre bici è l'inventore il creatore nonché uno dei soci che produce questa linea di prodotti tutti e tutti gli amici ciclisti mi hanno chiesto di fare questo video perché hanno già provato questo prodotto e sono stati tutti quanti entusiasti è vero carbotonic è un prodotto indicato per le attività di medio e lungo raggio per cui il ciclismo è perfetto in questo caso e a base di carboidrati sono maltodestrine e fruttosio il rapporto bilanciato magnesio e potassio e le vitamine del gruppo B soprattutto questo perché il fruttosio dà un'energia immediata le maltodestrine hanno un assorbimento graduale e garantiscono il mantenimento della forza e la possibilità di avere una performance a medio lungo tempo magnesio e potassio per la contrazione dei muscoli e le vitamine del gruppo B per il metabolismo energetico cellulare quindi c'è tutto è stato apprezzato soprattutto perché non è troppo dolce è un leggero aroma di arancia la qualità del prodotto si vede dei suoi ingredienti qui non c'è il glucosico o sciroppo di glucosico che sarebbe il classico zucchero costa poco dolcifica tanto e dà un po' di energia la bottiglina di acqua e zucchero se dobbiamo tornare indietro di 30 anni questo è stato apprezzato e allora lo consigliamo lo usano i triatleti tutti quelli che fanno attività di endurance e senti pasquale l'azienda si chiama dupi giusto dupi italia che viene fatto più prodotti che stai parlando di questo perché è quello che oggi si riusa noi vabbè poi magari mi dà il link e lo metto sotto il video per chi dupitalia.it e oggi ci hai portato questo prodotto che tra l'altro noi io ho già provato l'altra volta si è già provato per oggi si farà questa prova anche se i nostri amici sono da vino e sigaretta però gli si mette nella borraccia il prodotto e quando si ritorna si è incompatibile con un bel panino al prosciutto vai gli si mette nella borraccia allora vai facciamo questa prova pasquale ora visto che siamo in questo vicino a cipressini della val d'orcia e vi faccio vedere il panorama ma l'avrete visto miliardi di volte si prova carbon tonic io c'ho la mia bottiglietta d'acqua da mezzo litro e pasquale ci fai vedere quanto ce ne va in un mezzo litro d'acqua due misuristi come farlo così in una preparazione rustica 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 perché si oggi se lo siamo portati dietro proprio per fare questo alla come faresti su un cianiente ecco due cucchiai su mezzo litro e la concentrazione ideale e questo è gusto arancio giusto vedo dal colore al colore lo danno anche le vitamine c'è anche la vitamina c senti ho visto ora scusa non so se mi posso permette di dirlo in questo video però io so abbastanza schietto nei video che faccio e ho visto che online si trova a circa 16 17 euro una confezione e questo è il prezzo quindi diciamo è un prezzo ottimo per un prodotto di questo tipo ora io ho guardato online per vedere è un chilo di prodotto due cucchiai su mezzo litro col suo misurino che c'è dentro si sciabatta come tutti quanti il colore viene questo e e la caratteristica che io ho notato che non uso questi prodotti perché mi dannoia prodotti zuccherati questo di seta è l'unico che di seta nel senso e se normalmente berreste due bottigliette d'acqua con questo prodotto ve ne basta un dico una però ne consumate molto di meno io ho notato questo l'altra volta perché mezza bottiglietta ero già dissetato non avevo più bisogno di nulla si poi ascolta ora io non mi capo a parlare di prezzo nei video specialmente di prodotto che ne vendono e però 17 euro 18 quello che può costare o 16 non ho visto un po di prezzi sui in internet perché le farmacie online quasi tutte ce l'hanno se un chilo di prodotto ottimo prezzo concorrenziale prodotto fatto in italia è normale vai allora dopo vi faccio vedere l'assaggio perché ora c'è da c'è da iniziare a pedalar se non servirebbe a nulla se è stato chiarissimo pasquale e niente ci si aggiorna dopo si può scrivere di tutto si possono fare ordini si può mandare qualche messaggio perfetto perfetto ora prendiamo la nostra cavia tonio il brasiliano e ora gli seppi è nato già la borraccia ma l'ha già finita ma che ha fatto ieri sera per finire una cosa così e dopo si vede le sensazioni di tutti che su questo no a dopo mitica la tudes pro la migliore bici con un telaio fenomenale allora il brasiliano dopo il carbotonic gli ha dato quell'effetto di stupefacente la vedere in che condizioni tonio quanto l'ha bevuto finora dai sensazioni del brasiliano mi piace buono sì come che gusto è arancio si buono di setanti poi va bene a tutto no perché la usi questa roba ti piace va bene numero uno pure steam questa è la meglio bici vedi e ora me la fanno siamo arrivati tazio come ti è sembrato il carbotonic ora che pasquale non ci senti bene buono buono perché comunque sia c'è un buon sapore e poi di seta se lo bevi che non hai sudato non è buono quando invece ha tanta sete lo bevi dici cazzo veramente disse tante ma è dovuto al poco sapore ha giustamente che quando hai sete no gli si passa dai poi ascolta 17 18 euro un chilo buono buono dai vai guardate che bella ghetto allora siamo arrivati è finito il giro ci siamo fermati tutti qui e niente oggi abbiamo provato il prodotto di pasquale il carbotonic ottimo va benissimo lo trovate online basta scrivete carbotonic e in commercio online diverse farmacie spero che questo video vi sia piaciuto mettetevi un like e iscrivetevi al canale un saluto a presto da riccardo ciao